Il nostro uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuove mezze di trasporto fa che i conducenti di queste macchine, i vari percorsi di lavoro con il svanago operano sempre con delizia e potenza di una sicurezza di un'unità di vita e avvertono a tanto a sé la tua funzione che serve. Grazie.